L'allarme da un frecciabianca in transito tra Padova e Mestre. Il macchinista aveva sentito un tonfo anomalo e ordinato l'arresto del treno, ma non risultavano segni di impatto su nessuna carrozza. L'uomo investito è stato raccolto dal convoglio successivo proveniente da Verona. Barcollava lungo i binari con una vistosa ferita alla testa. Accolto a bordo è stato soccorso dal personale della Polfer coi defibrillatori e poi dalla stazione di Mestre portato d'urgenza all'ospedale dell'Angelo. È ora ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Non aveva documenti addosso, dimostra circa 30 anni e potrebbe essere nordafricano. Non sono ancora terminati i lavori per porre rimedio al guasto alle tubature che ha provocato più di 24 ore fa una fuga di gas in via miranese. Ancora chiuso in entrambe le direzioni il tratto di strada tra la farmacia Zanetti e la rotonda di via Trieste. I lavori potrebbero proseguire durante tutto il fine settimana. Tutto il traffico in direzione Mestre viene deviato su via Trieste. Il consiglio per gli automobilisti è di scegliere percorsi alternativi. Spacciatore, a solo 17 anni, da mesi era sorvegliato a sua insaputa dai carabinieri che hanno aspettato il momento giusto per suonare alla porta di casa con un mandato di perquisizione. Nascosti sotto il letto e dentro l'armario del giovane i militari hanno trovato 144 grammi di marijuana già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione 1.500 euro in contanti. Il ragazzo è stato accusato di detenzione illecita di droga e sottoposto agli arresti domiciliari.